Il programma del Carnevale favorese finalmente definitivo si svolgerà in quattro giorni da sabato 9 a martedì 12 e l'amministrazione ha fatto un grande sforzo anche coadiuvato dalle associazioni e dalle scuole per mettere in piedi questo cartellone. Le quattro serate si svolgeranno in Piazza della Pace, Via Kennedy, Piazza Cavour e in Via Grigento. Gli istituti che parteciperanno e che hanno dato la loro disponibilità con grande entusiasmo sono l'istituto comprensivo Brancati, Mendola Vaccaro, Borsellino, Bersagliere Urso parteciperà anche con la scuola media, mentre purtroppo devo comunicare che l'istituto Guarino non potrà partecipare per mancanza di disponibilità degli accompagnatori. Io in qualità di assessore alle politiche giovanili volevo sottolineare il fatto che oltre la buona volontà dell'amministrazione a realizzare il Carnevale a Favara. Mi sembra doveroso ringraziare le associazioni giovanili che hanno partecipato a questa organizzazione e che sono le vere protagoniste di questo Carnevale perché la forza motrice è venuta proprio da loro. E approfitto ad invitare tutti i giovani di Favara e non solo a partecipare in modo attivo al nostro Carnevale sperando che riesca tutto con il meglio.